Pappu Gomez torna a giocare in Serie A a fare fatto, fantallenatori impazziti. Il campione del mondo argentino, dopo aver chiuso la sua esperienza con il Siviglia, era rimasto svincolato. Il Monza di Raffaele Palladino, dopo il lungo e brutto infortunio di Gianluca Caprari, ha scelto di puntare proprio su di lui. Gomez al Monza, affare definito, contratto fino al prossimo giugno. Il calciatore, diventato grande con la maglia dell'Atalanta, ha vinto negli ultimi mesi prima il Mondiale con l'Argentina e poi l'Europa League, in finale contro la Roma con la maglia del Siviglia. Sbarcato in Italia nel 2010, Papu Gomez ha trascorso la maggior parte della sua carriera proprio nel nostro paese. Solo una parentesi di un anno al Metalist, poi l'inizio dell'esperienza alla Dea. I numeri incredibili, l'ascesa in Europa, il giocattolo perfetto di Gasperini. Il rapporto però con l'allenatore bergamasco si incrinò poi particolarmente, tanto che l'addio fu inevitabile. Adesso per Gomez una nuova esperienza, lo attende il Monza. Grandissimo colpo del Condor Galliani. Voi cosa ne pensate? Come potrà rendere, secondo voi, il Papu in questa Serie A?